Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la Maten 2.5W, VTX analogica 5.8GHz della JPRC, se volete acquistarla trovate il link in descrizione. Oltre alla Maten vedremo le nuove antenne da Long Range JPRC, la MOMDA2 e la MOMDA2 Dual. Queste antenne sono particolarmente indicate da abbinare alla Maten in modo da ottenere le massime prestazioni della VTX. Partiamo quindi dalla videotrasmittente e vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo la Maten, un'antenna lineare, una prolunga SMA MMCX, i cavetti per il collegamento e le viti per fissare la VTX al frame. Per finire abbiamo il manuale di istruzioni e le indirizzi per il supporto e social JPRC. La Maten si presenta come una VTX 30x30 rivestita interamente da un case in alluminio, questo aiuta a dissipare meglio il calore generato dalle elevate potenze che raggiunge la VTX, parliamo infatti di ben 2.5 Watt massimi. Sul case notiamo questi due fori che possono essere usati per sistemare una ventola 20x20 in modo da ottenere le temperature ancora più basse. Passiamo alle specifiche, i canali sono 72 divisi nelle bande A, B, E, F, R, L, U, O e H. Possiamo scegliere la potenza tra 25, 200, 600, 1600 e 2500 mW. La tensione in ingresso supportata può essere compresa tra 7 e 36V, possiamo quindi usarla con lipo da 2 a 8 celle. Tutte le impostazioni possono essere fatte tramite telemetria Tramp o tasto Funzione direttamente dalla VTX. Per quanto riguarda i collegamenti in dotazione ci viene fornito questo cavetto da sistemare nella parte anteriore della VTX. Quindi diamo uno sguardo allo schema per capire meglio a cosa servono i vari cavi. Partendo dall'alto i primi due cavi servono per alimentare un'eventuale videocamera FPV. Questi collegamenti sono opzionali perchè potreste decidere di collegare la cam direttamente sul flight controller, io di solito faccio così. Il cavo verde IRC è per la telemetria Tramp e andrà collegato su un TX libero del flight controller. Il cavo VTX giallo è il cavo segnale e andrà collegato anche questo nel flight controller, sul pad video out. Gli ultimi due cavi servono per alimentare la VTX, per quanto riguarda questo modello vi consiglio di collegarlo in linea diretta con la batteria. Infatti VTX che raggiungono potenze così elevate assorbono parecchia corrente e possono mettere in difficoltà il back del flight controller. Il collegamento tramite il lipo invece è molto più sicuro e ci garantisce che la VTX riceva un'alimentazione costante. Dopo aver collegato la VTX passiamo alla configurazione su Betaflight. Iniziamo col Tab Porte. Qui attiviamo VTX IRC Tramp nella WART dove abbiamo collegato il cavo verde. Io l'ho collegato nel TX3 quindi attivo questa funzionalità nella riga della WART3. In configurazione assicuriamoci che OSD sia attivato. A questo punto scarichiamo la VTX Table, in descrizione vi lascio il link su dove trovarla. Apriamo il documento di testo e selezioniamo tutto. Poi facciamo Coppia. Ora andiamo sul CLI. Facciamo Incolla in questo punto. Poi premiamo ENTER. Perfetto, la VTX Stable si è caricata. Perfetto, la VTX Stable si è caricata. Ora è venuto il momento di testare le potenze della VTX. Come sempre però prima di alimentare la VTX è obbligatorio inserire l'antenna, altrimenti la VTX andrà a danneggiarsi in modo irreversibile. A tal proposito prima diamo uno sguardo alle nuove antenne GPRC, abbiamo la MOMDA2 e la MOMDA2 Dual. Ed ecco qui le nostre antenne. Come possiamo vedere la MOMDA2 Dual ha una doppia antenna, mentre la MOMDA2 ha una singola antenna. La MOMDA2 Dual è quella che ci offre le prestazioni migliori, quindi si può valutare di abbinarla alla Maten 2.5W. La MOMDA2 singola invece offre prestazioni leggermente inferiori e potete valutarla se non dovete coprire distanze troppo lunghe. Se siete interessati alle nuove antenne GPRC in descrizione vi lascio il link su dove trovarle. A questo punto quindi misuriamo le potenze della Maten con l'RF e Power Meter dell'emersione RC. I risultati che otterremo però non andranno considerati come assoluti, perchè l'attenuatore è necessario per misurare potenze così alte e ne diminuirà la precisione. Sebbene comunque dobbiamo considerare un certo margine di errore, questi dati saranno utili per darci un'idea delle potenze che riuscirà a raggiungere questa VTX. Quindi testerò le potenze disponibili per un tempo di 2 minuti in modo da far assestare il valore, e raffredderò la VTX con questa ventola per simulare lo spostamento d'aria che si ha in volo. Ed eccoci i risultati dei test. A 25mW viene rilevata una potenza intorno ai 40mW, quindi quasi doppia quella dichiarata. A 200mW il valore si attesta intorno ai 150mW, quindi leggermente sotto a quanto dichiarato. A 600mW vengono rilevati 420mW, mentre a 1600mW 1060mW. Quindi si ha una leggera perdita di potenza che è normale dopo qualche minuto di esercizio. Il valore che mi ha colpito maggiormente però sono i 2500mW che dopo minuti erano ancora 2100mW, scendendo sotto i 2000mW solo dopo 4 minuti dall'accensione. Per quello che ho potuto testare su altre VTX il valore massimo cala molto rapidamente dopo i primissimi minuti di accensione, mentre su questa VTX il naturale abbassarsi della potenza avviene molto lentamente. In conclusione mi sento di consigliare la Mate 2.5W e le antenne MOMDA2 a chi si vuole dedicare a long range sul sistema analogico. I risultati dei test sono stati buoni, vedremo più avanti come sarà la qualità del segnale video. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi i Patrons cliccando il link a fine video. Grazie per la visione!